la musica in casa diciamo è sempre stata normale perché mio padre è pianista quindi però ho trovato per caso questa cassetta e proprio forse perché lui mi aveva detto guarda tanto non ti piacerà che quindi sai come i bambini e allora invece vedrai che l'ascolto è stato anche studiato lo sai come caso di resistenza fisica assolutamente sì no in effetti mi è nata bene sotto la doccia non ti scappa un pezzo di lady gaga no proprio no di lady gaga no facevo venire un qualcosa di pop estremamente sì sì no assolutamente vabbè Beyoncé certamente però cioè se fai una gita non ti dissoci da quel mazzolino di fiori cioè vai dentro le bionde tre ce l'ho cantata anche tante volte no 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 assolutamente tipo sciogli le trecce cavalli grande rispetto anche per quei brani ma assolutamente sì no perché sai poi è una questione di gusti questo è sicuro però sai delle volte c'è chi prendendosi magari un po' troppo sul serio se vuole solo essere preciso nel suo mondo e quindi non sono io non mi prendo sul serio è interessante proprio questa questa sorta di miscellana tra quelle che sono le sonorità moderne che ritrovano la tradizione i puristi magari possono storcere un po' il naso su questo però ce ne sono sono protetti sono protetti e indubbiamente non non accontenterà tutti ma abbiamo proprio voluto fondere un po' il mondo del jazz con quello del pop e cercare di trovare un accordo che fosse orecchiabile che fosse anche easy da ascoltare e comunque raffinato e che avesse una una sua consistenza insomma mi piace e mi ha divertito tra i quattro inediti quello completamente strumentale Copse and it's dove c'è una sorta come un'ispirazione a tutte quelle che sono le sigle e questo poi sì è stato composto Roberto Sansuini è arrangiato da lui veramente interamente lui è un mattacchione quindi ha fatto veramente un gran lavoro secondo me è uno dei pezzi che preferisco anch'io tra l'altro che è solo strumentale ma devo dire in macchina sono quelli che quando lo senti dici guarda come sono stata brava ho brava a cantare non ho ancora capito dove entro è bello questa cosa un intero album canale l'unica strumentale ovviamente perché la mia voce poi sai non uno non ha mai non riesco mai per ascoltarla veramente voi come vi siete conosciuti artisticamente dunque io vediamo se si ricorda attenzione che questa è la parola del no io la ricordo è un po' anche se non c'è un legame affettivo è un po' come il discorso dell'ammonia adesso voglio vedere se si ricorda l'anniversario più o meno era quello adesso vediamo io ci siamo conosciuti vediamo eravamo nel suo paese io ero suonata nel suo paese a Borgotaro mi ricordo perché sì e mi ricordo una ragazza in shorts con la bicicletta da corsa ah no ho detto però chi è questa corsa vedi che cioè tu l'hai subito o l'ha notata artisticamente sì sì lo sapevo si è visto degli shorts così non si vedevano da anni ma vabbè più o meno ognuno ha il suo ricordo diciamo no comunque si ci eravamo conosciuti perché c'era un concerto dove poi avremmo anche dovuto suonare insieme in realtà non ci conoscevamo ma avevamo un'amica comune che era una pianista che ci aveva poi fatto conoscere per questo progetto che volevamo mettere in piedi e quindi ci siamo conosciuti da lì e devo dire che poi siamo diventati amici e avevamo sempre questo sogno di così di concretizzare un po' il nostro lavoro e questo è stato ecco quindi a Grazie a tutti.